Albadia, le scuole, alla villa, la convenzione è stata firmata tra la provincia e il comune un iter piuttosto complicato che finalmente ha portato ai risultati sperati Allora, nei giorni scorsi sopra luogo da parte dell'assessore Bessone più che soddisfatto per aver concluso questo progetto intanto per quanto riguarda la via amministrativa adesso si passa ai fatti È un progetto che facciamo in collaborazione con il comune di Badia la spesa è di 15 milioni di euro di cui la provincia investe 10 milioni di euro e dobbiamo dare agli alunni una scuola più moderna, più funzionale ma soprattutto sicura perché i ragazzi sono il nostro futuro, sono un grande investimento e questo non è solo la ristrutturazione di una scuola ma è un investimento sulle tradizioni e la cultura ladina perché ogni soldo speso per la cultura ladina è un soldo ben speso Lasciamo i...